Ave Maria, buona domenica, sono frate Stefano dei Frati Servi di Santa Maria, oggi è il 31 gennaio. Ascoltiamo insieme la lettura del Vangelo di domenica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio grande e misericordioso, concedi a noi, tuoi fedeli, di adorarti con tutta l'anima, e di amare i nostri fratelli nella carità di Cristo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi Dal Vangelo secondo Marco Gloria a te o Signore In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli iscrivi. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro, e cominciò a gridare, dicendo, «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» E Gesù gli ordinò severamente, «Taci, esci da lui!» E lo spirito puro, straziandole, gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda «Che è mai questo?» Un insegnamento nuovo, dato con autorità, comanda perfino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore Lode a te o Cristo Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Così parla il demonio che possiede quell'uomo Sei venuto a rovinarci? Può capitare anche a noi che ci sia una voce dentro interiore che ci fa pensare che Gesù è venuto a rovinarci è venuto magari a toglierci la gioia, è venuto a toglierci la libertà Dobbiamo saper riconoscere che questo non è lo spirito che viene da Dio Perché Gesù porta la libertà e viene a liberarci Ti auguro di cuore una buona domenica, buona giornata Dio ti benedica Facci bene, prenditi cura di te Ciao Grazie Grazie